La GameSocial ha rilasciato le nuove FAQ per quanto riguarda il Nighthawk il 6 luglio 2023 Tenicamente queste non sono nuove FAQ, semplicemente la GW ha tolto molte FAQ, soprattutto riguardanti i Nagash e siccome le FAQ sono molto disperse e che sono cambiate molto nel tempo ho deciso di risettare e creare un unico video da cui partire in modo da avere dove trovarle tutte e avere un riferimento da cui partire di nuovo perché altrimenti era un continuo a rimandare ad altri video che sono cambiati notevolmente a lungo il tempo Quindi cominciamo a guardare La prima che possiamo trovare è per quanto riguarda un'unità di furia con l'abilità Sneaky Little Davis che sia in tutte le pollici da un'unità di Nighthawk con la keyword Divine Legend e qui viene chiesto se può utilizzarla Dato che la Divine Legend non permette di ritirarsi alle unità avversarie che siano in tutte le pollici da essa Questo rende praticamente molto interessante questa FAQ Poi abbiamo per quanto riguarda le Minimum Banshee per quanto riguarda lo Spelliter come abilità Ecco che qui viene chiesto se si può tentare di disperdere un incantesimo che non va a bersagliare specificatamente come bersaglio come un incantesimo per un'abilità ad aura come Basham Lads o un incantesimo che permette di causare a range ferite mortali come Alash, Swarm o Spice e qui viene specificato no perché effettivamente nel testo le Minimum Banshee devono essere bersaglio quindi se è un range ma non sono tecnicamente bersaglio ci può stare come definizione Altra cosa è per quanto riguarda l'abilità sempre del Spelliter per disperdere un Enderspace e quindi per capire se l'effetto di quell'Enderspace si applica prima di essere disperso e ovviamente viene detto no perché se viene disperso non può applicarsi l'incantesimo effettivamente quindi ci sta ed è benvenuta come chiarimento Poi abbiamo se un mago nemico tenta di lanciare un incantesimo che permette di avere diversi bersagli ad esempio come Comet Call e tra questi diversi bersagli totalmente dentro 12 pollici di unità delle Minimum Banshee si può tentare di usare la Spelliter come appunto abilità più di una volta per unità bersagliata e ovviamente dice di no perché si può usare solo una volta per bersaglio qualora appunto le Minimum Banshee siano il bersaglio di questo incantesimo o tra i bersagli di questo incantesimo comunque basta che succeda quella volta e abbia appunto ovvio è successo quella volta e si risparde un incantesimo quindi è giusto questa specifica anche se dovrebbe essere banale poi abbiamo qualcosa di molto molto interessante per quanto riguarda le Drabble Arrow che se sono il generale dell'armata quando lanciano un comando si può usare l'abilità Cursor-Lorealty per lanciare lo stesso comando a una differenza in unità un'altra volta e qua viene specificato che si può fare ed è molto interessante come cosa perché se ci andate a pensare vuol dire poter usare due Rally o due altre abilità comando di questo tipo sono molto molto utili quindi valorizza molto quello che è appunto la Drabble Arrow eventualmente poi andiamo a vedere ancora abbiamo per quanto riguarda la data in questo caso con il Coolcast Cursator con l'abilità di Empower Flow Exhaustion che dice che se questa unità è entro 12 pollici da unità terrificata, terrified si sottrae 1 dai danni inferti fino a un minimo di 1 però non è effettuato con successo che vada a bersagliare unità di Naitound che siano totalmente entro 12 pollici da questa unità qua è la differenza la stessa unità nemica non può essere affetta da questa abilità più di una volta per fase ci sta perché ci stava effettivamente anche se era difficile usare due Coolcast Cursator però comunque è molto utile in ogni caso anche se è limitata una volta per fase cioè meglio con una stossa unità per fase ecco che poi abbiamo la Drabble Arrow di nuovo con la Course of Reality che dice che si cambia il test in modo che una volta per turno di battaglia se il proprio generale ha la keyword Naitound e lancia un comando questa unità può lanciare lo stesso comando nella stessa fase senza usare punti di comando a riguardo quindi ecco che questo ovviamente comando deve essere ricevuto da unità amica di Naitound questo va perfettamente a combinarsi con quell'altro quindi se è generale si può lanciare lo stesso comando a due unità differenti e grazie a questa FAQ si permette anche di fare in modo che uno di cui non venga speso il punto comando per una di queste quindi molto interessante sinceramente avrei perfetto che queste due fossero unite sotto un'unica FAQ e cambia tutto il testo perché effettivamente bisogna darlo a cercare un attimo perché è divisa però è comunque buona poi abbiamo per quanto riguarda le Spiritos con Drone to War che dice che prima di andare ad allocare una ferita o ferita mortale all'unità amica di Naitound Hero o invece di fare un tiro di quelli per appunto dei Worsair per una ferita o ferita mortale che andrebbe allocata a quell'Hero se c'è una delle unità amiche con questa abilità entro tre pochi da quell'Hero si può tirare un dato altro o più quella ferita o ferita mortale allocata all'unità amica con questa abilità e qui c'è la differenza che sia entro tre pollici da quell'Hero invece che all'Hero e non può essere negata questa aggiunta dell'Hero entro tre pollici tecnicamente dovrebbe essere complessibile da prima però serve evitare qualsiasi affrontendimento perché effettivamente potrebbe in qualche caso magari dare qualche affrontendimento o altro non credo ma nel caso succeda questa è un'aggiunta che mancava al test originale però appunto rimane quella non è un problema l'abilità rimane quella praticamente diventano delle bodyguard di Squidward che è la loro particolarità quindi è molto interessante quindi con queste finalmente abbiamo recuperato tutte assieme tutte le fatte per quanto riguarda Night Town perché ripeto erano molto disperse tra i vari video e devo ammettere che comunque sono molto interessanti ad ogni modo da Dynamode per questo video è tutto vi invito a mettere mi piace a iscrivervi al canale a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo questo tipo di video oppure se siete interessati a semplicemente assinarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati da Dynamode è tutto alla prossima